Alla fine di 40 minuti combattutissimi, la Web Corner si ci riesce a fare il colpaggio al Palace Porta Estra bruciando in volata l'Amen Scuola Baschettarezzo 59-57. Il Quinteto di Ottaviani ha sfruttato quelle che solitamente erano state le qualità degli Amaranto, ovvero grande determinazione nel non mollare mai, riuscendo a rimontare punto su punto e alla fine prendendo due punti preziosissimi per la corsa ai play-off. In casa Sbar rimane l'Amaro in bocca per una gara condotta per 39 minuti e 55 secondi e poi sfuggita via a causa dell'imprecisione mostrata nel finale sia ai tiri liberi che alcune scelte che non hanno premiato l'Amen. Arezzo era partita più decisa riuscendo a tenere dietro i gialloverdi valdernesi nella prima parte di gara sfruttando un ispirato Fratini, 28 punti alla fine per la guardia retina e toccando il massimo vantaggio sul più 13 sul 40-27. La Web Corner si ci però non ci sta e comincia la propria rimonta partendo da una difesa che ha limitato Fratini e messo in difficoltà Coutini e tenuto 8 punti realizzati. Nell'ultimo quarto gli ospiti accorciano fino ad arrivare a un possesso di distanza dall'Amen regalandosi un finale da ricordare perché l'Amen spreca tanto in attacco e dall'altra parte del campo i Caponi a segnare la tripla che mette capo gli Amaranto con 5 secondi da giocare. La Sbar prova ad organizzarsi ma il tiro della disperazione di Coutini finisce corto dando il via ai meritati festeggiamenti della Fidesa che con questa vittoria fa un altro passo verso i play-off mentre l'Amen viene raggiunta in classifica da Carrara. Adesso gli Amaranto dovranno voltare rapidamente pagina per dimenticare l'amaro di questa sconfitta che comunque non pregiudica l'ottimo campionato fatto fino a oggi dalla squadra di Pacini. Mauro come si può concepire una situazione del genere? Abbastanza semplicemente. Innanzitutto devo fare i complimenti a Montevarchi come ho sempre fatto perché fin dall'inizio io sono l'unica persona di questa società che ho sempre detto che Montevarchi è la squadra più forte del campionato. Continuo a dirlo, non mi ascolta nessuno. Oggi hanno preso come si dice Arezzo una bella musata. Quindi continuo a sostenere che in questo campionato bisogna giocare col cuore. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo fatto. Oggi secondo me c'è la presunzione di essere più forti e questa musata come si dice Arezzo, tanto voglio dire siamo in casa, penso che faccia proprio bene. Questo è il primo fatto. Il secondo fatto è che noi facciamo, non lo so io, calcolarli oggi, ma 70-80 errori buttati veramente al vento. Quindi o si decide di fare delle scelte, delle volte anche coraggiose oppure continueremo a fare queste 6 perché Montevarchi ha vinto.